Ma non l'ha mai tirato in porta, anche questo l'ha detto. E apriamo invece una pagina incresciosa, occupiamoci della nazionale, ne parleremo io probabilmente più tardi, ma adesso vediamo che cosa ha esclamato, dovete indovinarlo voi da casa. Che la faccio, eh, ce la faccio. E quindi preparatevi, cosa ha esclamato Gianluca Tortuga Vialli. Eh, lo so. È abbastanza chiaro, ma vi abbiamo preparato un replay. Lo so Carlo, eh. Ed anche queste frasi, tra le quali potete scegliere, ma ti ammazzo i buoi, paparazzi noi, oppure chi ammennico lo desideri. Ma sai che non c'è quello che... Secondo me era la prima, eh. Vabbè, comunque, vincono il... I vincitori ci scegheranno questo, che era lo spazionino da denti, di Guglielmo Dentone Platt. Così è piccolo?